La bellezza da sola forse non basterà a salvare il mondo, ma di certo permetterà un capolavoro di educazione. Questo è il titolo del progetto di scuola dell'infanzia di indirizzo artistico musicale presentato nei giorni scorsi nei rinnovati locali del preziosissimo sangue a Piacenza. Dopo le prove generali dello scorso anno scolastico, da qualche mese, per i circa 50 bambini della scuola dell'infanzia, sono iniziate le attività legate al mondo dell'arte, dal teatro alla danza, passando per la musica. Un metodo innovativo che ha lo splendido obiettivo di stimolare lo stupore del conoscere. Siamo molto orgogliose e anche commosse perché poter aprire le nostre porte a Piacenza con ciò che noi facciamo quotidianamente, con passione e con amore, è molto bello e soprattutto vedere come anche i bambini e le famiglie hanno accolto questo progetto ci dà molta gioia. Secondo me è molto importante, infatti grazie alle diverse arti crediamo che i bambini possano crescere in un benessere psicofisico e creare nuove relazioni e nel mondo di oggi pensiamo davvero che ci sia bisogno di bellezza, tanta bellezza e tanta arte. Di fronte a Don Paolo Cignatta, alla consigliera Lucia Favari e a Laura Pagani della FISM, è stato simbolicamente tagliato il nastro del progetto con un breve videodocumentario. Le giovani e preparate educatrici della preziosissimo sangue hanno accolto i rappresentanti dell'associazione William Bottigelli, partner dell'iniziativa. Dal fondatore Mario Chitti li abbiamo visti veramente felici, li abbiamo visti crescere con un progetto importante, sempre molto serio, trasparente e dalle finalità splendide per cui non potevamo non esserci. Ad Angelo Gardella, fino ad arrivare all'ex calciatore Daniele Cacia. Cerchiamo sempre di seminare per cercare di raccogliere poi più possibile, questo a volte non accade però insomma noi ce la mettiamo sempre tutta e continueremo a farlo.